Musica Nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV edizione di Monza, ben ritrovati. Truffe agli anziani aumentano le denunce in Brianza, 80 gli episodi segnalati solo nel 2022 per un danno da oltre 2 milioni. Polizia, amministratori di condominio e provincia lanciano una campagna di sensibilizzazione. Altri arresti nel parco delle Groane contro lo spaccio di stupefacenti. Tre le persone fermate dai carabinieri avevano eroina, cocaina e hashish. L'area attira assuntori dall'Interland milanese. Saranno utilizzate cariche controllate di esplosivo per abbattere la vecchia torre dell'acquedotto di Velasca a Vimercate. A realizzare la demolizione, Brianzacque, 13 famiglie saranno evacuate. E adesso vediamo insieme i servizi. Quello delle truffe agli anziani, finalizzate a estorcere somme importanti di denaro e beni di valore, è un fenomeno sempre più preoccupante e diffuso, nonostante il suo carattere odioso, poiché riguardante una fascia fragile della società. Ma è proprio per prevenire e contrastare questi reati che è stata lanciata a partire dalla mattinata del 30 marzo un'apposita campagna di sensibilizzazione, attenti alle truffe, proteggiamoci collaborando, promossa da Polizia di Stato, Associazione Nazionale, Amministratori Condominali e Immobiliari e Provincia di Monzebrianza. L'obiettivo comune è quello di contrastare, quindi fare un'attività di prevenzione quasi a domicilio, contrastare quell'odioso fenomeno delle truffe cosiddette ai danni degli anziani, realizzate posti in essere da persone che definisco vili, vigliacche, perché se la prendono con persone appartenenti di una fascia debole, vulnerabile, ricattandoli quasi sugli affetti, sui sentimenti, talvolta approfittando anche della loro solitudine e quindi fare una prevenzione arrivando proprio a informarli, a rendere ancora più consapevoli su questi rischi. E quindi l'idea, con Anaci, visto che hanno una presenza capillare sul territorio, di organizzarci, di stampare appunto mille brochure informative che da questa mattina, grazie anche al patrocino della provincia di Monzebrianza, stiamo proprio mettendo nei condomini assieme ad amministratori, in maniera tale che ci sia un effetto rassicurante per l'anziano, che quando magari esce di casa, nell'atrio, nel portone, vede la brochure e c'è quel richiamo di attenzione, è anche un effetto deterrente nei confronti del malintenzionato che vedendo quella brochure forse desiste e può andare via. Oltre 80 gli episodi segnalati nel 2022, con sottrazioni di denaro contante pari a 617 mila euro, oltre a monili in oro e gioielli per un danno complessivo di oltre 2 milioni di euro. Non è tanto solo l'odioso raggiro, truffa che viene messa in atto, ma poi sono le conseguenze di tipo sociale che generano questi casi, insicurezza dell'anziano, stati di depressione, eccetera, che poi ricadono anche sui servizi sociali, eccetera, del comune, che devono seguire capillarmente questi casi. Quindi è fondamentale appunto dar seguito a un'informazione, a una prevenzione verso le persone fragili. Il nostro ruolo è quello di portare il messaggio all'interno proprio delle case dei cittadini. Questo tipo di reato è molto fastidioso, noioso, in quanto va a colpire le persone più fragili e quindi è importante andare fino in fondo per contrastarlo il più possibile. Non si ferma l'attività di prevenzione e contrasto da parte dei carabinieri per liberare dalla droga il Parco delle Groane, area che attira assuntori e spacciatori dall'Interland milanese. I carabinieri hanno arrestato altre tre persone. I militari della tenenza di Cesano Maderno hanno preso in flagranza di reato un 34enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e senza fissa di mola. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga approfittando della fitta vegetazione per sottarsi alla cattura, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Aveva 6 grammi di cocaina, 37 di eroina, 76 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 2.000 euro in contanti. L'uomo è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e giudicato per direttissima dal Tribunale di Monza. Stessa sorte per altri due spacciatori, entrambi marocchini, rispettivamente di 24 e 26 anni, irregolari e senza fissa di mola, sorpresi tra gli alberi nel corso di una vasta operazione antidroga eseguita mercoledì pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Desio. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati 18,5 grammi di cocaina, 35 di eroina e 16 di hashish. Il pubblico ministero di turno della Procura di Monza ha disposto anche nei loro confronti il processo per direttissima. Meno vertenze, più conciliazioni. Dopo la pandemia sono in aumento le dimissioni volontarie e in calo le controversie fra dipendenti e lavoratori. I dati riguardano l'attività dell'ufficio vertenze della CIS Monza-Brianza-Lecco. Nella provincia Brianzola lo scorso anno sono stati assistiti 1.848 lavoratori, 424 alle vertenze in maggioranza per il recupero di crediti vantati verso le aziende, per un totale che si aggira intorno a 6 milioni di euro. I numeri però dei contenziosi sono decisamente in calo rispetto al periodo prima della pandemia. Sono in aumento le conciliazioni perché le riforme legislative ultime, soprattutto sui licenziamenti, hanno di fatti ridotto in maniera considerevole quelli che sono i risarcimenti. Per cui il lavoratore preferisce magari prendere meno e trovare un accordo con l'azienda, ma in tempi rapidi, piuttosto che incamminarsi in un percorso tortuoso, che può essere, voglio dire, quello di intentare una causa che magari free-solve fra un anno, vedersi riconosciuti, risarcimenti comunque, voglio dire, non particolarmente significativi. C'è un caso simbolo che avete affrontato in provincia di Monza e Brianza? Ma il caso interessante è il licenziamento collettivo operato dalla Giannetti. Noi abbiamo impugnato i licenziamenti perché l'azienda, avendo fatto un licenziamento collettivo senza prima convocare le organizzazioni sindacali, ma attraverso una mail, un sms ai lavoratori, noi abbiamo contestato la legittimità di questi licenziamenti. Il giudice ha riconosciuto l'attività antisindacale dell'azienda con una sentenza molto importante. Oltre 770 i lavoratori che si sono poi rivolti al sindacato per lasciare il proprio posto fisso, in crescita anche quanti chiedono un sostegno psicologico. Addio alla torre dell'acquedotto di Via Tasso a Vimercate. La struttura verrà abbattuta nella mattinata di giovedì 13 aprile con cariche controllate di esplosivo. L'intervento rientra nel programma di Brianza Acque per la demolizione delle torri degli acquedotti non più in uso perché superate da sistemi di pompaggio più moderni ed efficienti. Dopo la scomparsa dallo skyline Brianzolo, dei serbatoi pensili di Seveso, Barlassina, Bovisio Masciago e Varedo, tocca ora a Vimercate. Diversamente dagli interventi precedenti, la struttura, situata in zona velasca, verrà abbattuta utilizzando l'esplosivo. Una tecnica con più vantaggi, rapidità di esecuzione e di sgombero dell'area interessata, unite ad un risparmio economico per il gestore del servizio idrico. Il costo della demolizione è di 90.000 euro. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza, la polizia locale di Vimercate ha messo a punto un piano dettagliato di emergenza che scatterà dalle 10 e si protarrà fino alle 12 con l'evacuazione dei residenti, 23 persone appartenenti a 13 nuclei familiari. Interventi come questi sono significativi, spiega il presidente AD di Brianza Acque, Enrico Boerci, perché, oltre a eliminare strutture che non hanno più alcuna ragione di esistere, ci consentono di rendere disponibili spazi di territorio da ripensare in chiave di riqualificazione e di rigenerazione urbana. Con la rimozione del serbatoio, che da tempo non era più utilizzato, ci sarà un miglioramento del decoro urbano di quell'area, sottolinea Francesco Cereda, sindaco di Vimercate. Ringrazio i tecnici di Brianza Acque e la polizia locale per la loro operosità in questo importante intervento di riqualificazione. Dismesso dagli anni Sessanta, serbatoio pensile di Vimercate, alto 32 metri e appoggiato su una struttura portante, costituita da sei pilastri in cemento armato, non è più allacciato all'acquedotto pubblico e mostra tutti i segni dell'usura del tempo. Una volta liberata, l'area verde recintata su cui sorge verrà restituita proprio al comune di Vimercate, che ne è proprietario. Nel biegno 2023-2024 è previsto l'abbattimento di altre quattro torri, quella di via Villanova, sempre a Vimercate, poi quelle di agratebrianza, di coiate, di lentate sul Seveso. Per tutte queste costruzioni è previsto l'abbattimento con la tradizionale tecnica meccanica. Cabarettista eclettico, dallo humor dissacrante, improvvisatore e cantore della tradizione popolare appartenente all'epoca d'oro di Milano. Roberto Brivio è stata uno degli elementi più originali dell'epopea del cabaret nel capoluogo lombardo e il suo spirito satirico, poetico, spiazzante e divertente mantiene ancora oggi una sua straordinaria attualità. È in suo omaggio, a due anni dalla scomparsa, che Flavio Reglio e Alberto Patrucco, assieme agli Staffora Blueser, hanno portato sul palco del Teatro San Giuseppe di Brugherio nel Segno dei Gufi, in ricordo del quartetto cabarettistico milanese di cui proprio Brivio era stato componente negli anni 60. Canzoni della tradizione popolare e del repertorio della band, ma anche monologhi, giochi di parole e battute. Uno spettacolo che Patrucco Reglio avevano pensato con Brivio è diventato un viaggio alla discoperta di una mente geniale del teatro e televisioni italiani, dall'ironia sottile e attenta alla sua epoca e alla tradizione, capace, insomma, di rappresentare con la satira una società che non c'è più come quella meneghina del secondo novecento, ma le cui storie restano attuali e presenti nella memoria collettiva. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!